L'isteroscopia è un intervento endoscopico in chirurgia mini-invasiva ed a bassissimo impatto biologico. Cosa vuol dire questo? Che per raggiungere ed eliminare la patologia non è necessario creare alcuna lesione ai tessuti sani che la circondano, come invece accade sempre a tutti gli altri tipi di chirurgia. Serve? Serve essenzialmente a trattare e risolvere, questo è importante, tutte le patologie benigne e pretumorali presenti all'interno dell'utero, conservando, anche questa è una mission molto importante, l'integrità dell'organo. Esempi, polipi endometriali, fibromiomi, malformazioni uterine, endometriti, aderenze intracavitarie e anomalie della mucosa endometriale. E quindi tutto questo ci porta anche a trattare con diagnosi precise e cure specifiche la sterilità. E come si svolge? È, come ho premesso fin dall'inizio, un'endoscopia, quindi si utilizzano degli endoscopi operativi molto molto piccoli, per darvi un'idea concreta, da 4 minimo a 9 massimo millimetri. Si segue la via naturale, quindi non si fa nessun accesso traumatico, come sempre spiegavo prima, quindi una via naturale qual è? Attraverso la cavità vaginale ed il canale cervicale, dilatati perché sono cavità virtuali e quindi non hanno una dilatazione passiva, ma dobbiamo dilatarli noi, però con un sistema estremamente fisiologico, cioè una soluzione sterile, acqua per capirsi, per arrivare all'interno dell'utero. Quindi non c'è ferite, quindi non c'è sanguinamento e quindi non ci sono punti di struttura. Possiamo dire brevemente che ci sono due percorsi, uno ambulatoriale senza anestesia per interventi di bassa complessità e di breve durata, 10-20 minuti, con un dolore, se presente perché può anche non esserlo, paragonabile ad un dolore mestruale. L'altro percorso è chirurgico, quindi per una media ad alta complessità con anestesia e quindi in questo senso senza dolore. La premessa iniziale è una chirurgia mini-invasiva a bassissimo impatto biologico, quindi tutte le donne, salvo casi particolari, molto particolari, possono eseguire questa procedura. Sempre rifacendomi alla mini-invasività non è richiesta nessuna preparazione generica, solo quella decisa dal chirurgo per il singolo caso specifico. I rischi, sempre riferendomi alla bassa invasività, sono quelli comuni, diciamo, a qualsiasi intervento chirurgico, ma statisticamente molto, molto, molto più bassi. Dopo il percorso ambulatoriale, perché vi ricordate ho parlato di due percorsi, quindi dopo il percorso ambulatoriale non è richiesto alcun accorgimento particolare, salvo un rispetto delle proprie sensibilità, con una ripresa quindi immediata della normale attività. dopo invece il percorso chirurgico, che richiede un ricovero solo di giorno, solo di giorno vuol dire senza pernottamento, quindi la paziente entra al mattino e torna al suo domicilio alla sera. La convalescenza, cioè ritornando a casa, il ritorno alla propria normale attività varia da uno a tre giorni, in base ovviamente alla complessità dell'intervento e nella maggioranza dei casi la terapia è solo intraospedaliera e quindi la paziente torna a casa senza alcun tipo di terapia, comunque sempre in contatto col chirurgo che ha eseguito l'intervento. Il decorso è anche, questo è molto importante, senza dolore. Senza dolore quindi cosa vuol dire? Che a parte il tempo di recupero per l'anestesia e tutto il resto è un decorso assolutamente sereno, non paragonabile assolutamente al decorso di una chirurgia tradizionale dove spesso i giorni postchirurgici sono più gravosi del giorno chirurgico. Quindi questa è la grande, grandissima differenza che fa di questa chirurgia un caso fondamentalmente unico. Grazie. Grazie. Grazie.